Benedetta Parodi questa mattina ci confida che ha molta fame ieri ha mangiato solamente un minestrone e fa molto molto freddo meno 3 gradi Buongiorno a tutti, un saluto veloce perché oggi ho troppa fame perché ieri ho fatto di nuovo le mie 500 calorie poi vabbè non è che sono sempre 500, magari sono 600, 650 io mi sono mangiata un super minestrone, due piatti di super minestrone a cena e mi ha riempito sul momento oggi ho panno tostato con panna acida e mattillata ho comprato le brioche, ho anche un pancake che ho fatto a matite senza gluten mi devo un po' riprendere da ieri anche perché ci sono tipo 3 gradi so che avete molto apprezzato, l'ho visto dai like e dai commenti l'impastella di nata e il mercoledì quindi ogni mercoledì mi farò un dulci ok basta mangio buona giornata buona giornata anche a te e oggi vedremo che cosa ci farai di buono a te e oggi vedremo che ci farai di buono a te e oggi vedremo che ci farai di buono